Ho avuto due grandi delusioni. La prima, me lo permetta, è lei, Presidente. Lei mi ha dimostrato come la tanto sannata società civile, spesso e peggiore della politica. La sua gestione dell'Aula in queste settimane, a mio modesto parere, è stata dir poco disdicevole. E pensare che era partito bene, quando ha deciso di adottare il voto segreto per una serie di emendamenti, io ho lodato pubblicamente il suo coraggio. Dopo un giorno da leone, però, strattonato di qua e di là, lei si è trasformato nell'ombra di se stesso, in un novello d'un abbondio.